Quando nel remoto 1993 votai la mia ultima legge finanziaria, ricordo che ci fu un emendamento presentato dal gruppo dei Verdi che proponeva di unificare tutte le competenze relative al governo del territorio in un unico ministero che avrebbe dovuto essere per l'appunto il ministero del territorio. Questo significava eliminare il ministero dell'ambiente, trasferire a questo nuovo ministero le competenze sul governo del territorio, del ministero dei lavori pubblici, del ministero dei beni culturali e quant'altro e ovviamente era destinato ad essere bocciato. Allora siccome il tema mi intrigava, io chiesi al gruppo dei Verdi di ritirare questo emendamento per evitare che venisse bocciato, impegnandomi a ripresentarlo io stesso nella legislatura nell'anno successivo. Nel frattempo vennero sciolte le camere, venne sciolta la Repubblica, io non venne rieletto e quindi ho ancora questo debito nei confronti del gruppo dei Verdi che peraltro non c'è neanche più e quindi non saprei, forse posso pagarlo a grazia, non so però se... Grazie!